Arturo Di Modica aveva trascorso gran parte della sua esistenza negli Stati Uniti e l'autore del celebre toro di Wall Street, noto negli USA come Wall Street Bull o Charging Bull, una grande scultura in bronzo che realizzò interamente a sue spese nel 1987 dopo il crollo della borsa di Wall Street. Di Modica, che in quegli anni viveva negli States, volle simboleggiare la forza possente, la capacità di rinascita del popolo americano proprio nei momenti difficili, nonché della borsa di risollevarsi. L'opera avrebbe dovuto essere rimossa, ma oggi è diventata uno dei simboli più noti negli States e uno dei monumenti più visitati. Tornato nella sua città, aveva costruito la sua dimora fuori dalla cittadina incontrada a Pozzo Bollente. Negli ultimi anni viveva soprattutto a Vittoria ed era tornato sempre più di rado negli Stati Uniti. Lui aveva accarezzato un sogno e stava lavorando a un'ultima grande opera che voleva regalare proprio alla sua città. Due cavalli in bronzo da 40 metri, situati uno di fronte all'altro a sommortare il fiume Ipari, un sogno rimasto incompiuto. Voleva fare diventare casa sua un centro di aggregazione mondiale di artisti giovani. L'ultima apparizione pubblica nel settembre scorso, quando i quattro candidati sindaco di Vittoria, si legge sull'Ansa, si recarono nella sua casa per pianificare questi progetti. Numerosi messaggi alla sua morte. La camera ardente sarà allestita a Vittoria presso l'ex Convento delle Grazie, nei pressi di Piazza del Popolo.